Le segnalazioni dei nostri telespettatori questa volta ci hanno portato a Ponte Sasso, frazione estrema di Fano verso sud. Tempo fa il Comune spostò le strisce pedonali che si trovavano in corrispondenza del sottopasso che conduce al litorale e che attraversano la nazionale più a sud perché considerate in una zona pericolosa, ci dicono i residenti. Ma la situazione non è migliorata di molto perché ora dal sottopasso alle strisce si devono percorrere 500 metri sul ciglio della nazionale adriatica, cosa che non è proprio il massimo della sicurezza, visto l'esigo spazio, meno di un metro, a disposizione di pedoni, mamme con passeggini e carrozzine per anziani o portatori di handicap. Il discorso è che se qualcuno passa lì, siccome lo spazio è strattissimo, i calzonetti sono vicini alla statale, qualche camio può agganciarli e li può uccidere, quindi se poi succede qualcosa poi magari piangiamo dopo, invece è meglio prevenirle queste cose. Addirittura qualcuno per queste difficoltà preferisce attraversare in un luogo un po' più avanti qui, proprio di fronte al sottopassaggio dove non ci sono le strisce rischiando veramente il massimo. Proprio per non fare questo pezzettino di statale? Per non fare questo pezzettino di statale che praticamente essendo il camminatoio, il marciapiede, chiamiamo che non è marciapiede, chiamiamo così che è troppo stretto e quindi diventa pericolosissimo. E come vedete siamo proprio a ridosso della statale adriatica, questa è la striscia bianca che delimita il pezzo dove si può camminare e dove è la carreggiata delle automobili. Qui effettivamente chi viene qui per buttare la spazzatura o gli sfalci, se passa un mezzo grande, un camion o un auto articolato, gli fa proprio il pelo. Ma più avanti anche c'è proprio il passaggio che dovrebbe essere quello dove dovrebbero camminare le persone. Una volta che hanno attraversato la strada praticamente si ritrovano qui, ma vedete qui l'asfalto non arriva fin dove c'è il campo, ma c'è il breccino. E qui effettivamente una carrozzina o un passeggino sono a metà, insomma con problemi anche di stabilità. Basta un attimo che si passa di là e come vedete le macchine passano molto vicino. Con l'approssimarsi della stagione estiva e della presenza dei turisti si intensificherà sicuramente il traffico pedonale dal mare all'interno e verso gli esercizi commerciali. E questo preoccupa non poco gli operatori del settore, vista anche la folta vegetazione che non rende certo agevole il percorrere il camminamento destinato a pedoni e ciclisti. In virtù della stagione estiva siamo un po' preoccupati perché questo passaggio pedonale è molto pericoloso, poco visibile anche dalle macchine che transitano. E anche la parte pedonale che arriva al sottopassaggio è curata male dal malto stradale che è ghiaioso e i bidoni della spazzatura che impediscono il passaggio pedonale per il mare. L'altro problema di questo attraversamento pedonale è il fatto che praticamente non c'è lo spazio qui per proprio anche una carrozzina, un portatore di handicap. Noi siamo con i piedi nell'erba e la carrozzina sarebbe in mezzo alla strada. Esatto, esattamente proprio così, cioè qui non c'è alcuno spazio, praticamente dove si cammina fa parte della carreggiata della strada in pratica.